La maggioranza Lamboia ha approvato nel Consiglio Comunale tenutosi ieri sera il conto consuntivo 2012 del Comune di Tortora. Voto contrario dei gruppi di minoranza lenta altotirrenico chiude con un avanzo di bilancio di quasi un milione di euro, rispettato anche il patto di stabilità, ma secondo il capogruppo di Tortora nel cuore, Raffaele Papa, i risultati per quanto lo devoli mettono in luce anche un altro aspetto, ossia che il Comune ha solo accumulato, senza ridistribuire, le politiche di austerità, ha detto Papa, stanno strozzando le attività commerciali e le famiglie. L'ente deve erogare servizi, non è un'azienda che deve produrre un utile a fine esercizio. TNC ha inoltre annunciato battaglie sulla questione Tarsu. Dati alla mana, ha spiegato Papa, il Comune non solo ha coperto completamente i costi per lo smaltimento e la raccolta, come impone la legge, ma ha incassato più del dovuto. Inoltre la spesa totale è stata gonfiata con somme che nulla centrano con la Tarsu, come il conferimento di pneumatici o di materiale edile. La tassa è solo per la spazzatura prodotti in ambito domestico. Per Papa, quindi, ogni contribuente avrebbe pagato quasi il 46% in più. Di qui la proposta di Tortola nel Cuore. Sospendete il ruolo che avete messo, restituiti i soldi, o chiederemo accertamenti al Ministero degli Interni e alla Corte dei Conti. Non possiamo restituire se prima non incassiamo, ha detto l'assessore al bilancio Filippo Matellicani. Prendiamo atto della situazione, ma le interpretazioni di Papa non sono del tutto chiare. E sulle questioni avanzo e spendibilità delle risorse, Matellicani ha chiarito la posizione dell'amministrazione. Gli enti, ha detto, vivono un momento particolare. Hanno risorse, ma non possono spenderle. Da mesi ne sentiamo parlare quotidianamente anche sui media nazionali. Abbiamo le mani legate, le nostre preoccupazioni sono già al vaglio del nuovo governo. È un dramma che stanno vivendo tutte le amministrazioni. Fatto sta che Tortola è considerato un comune virtuoso e in un momento come questo è un ottimo risultato.